Io non l'avevo a casa, a quel comune, io la ompro. Sono assolutamente a favore dell'acqua a tinta dal rubinetto pubblico. Caraffa o bottiglietta è questo il dubbio scolastico delle scuole di Prato in queste ultime ore. All'indomani in cui un babbo ha chiesto e ottenuto dalle maestre che durante la mensa venisse usata acqua delle bottigliette comprata dai genitori stessi e fatta recapitare a scuola, sì, perché il servizio pubblico delle menze pratesi, come in molte parti della Toscana, prevede a pranzo la caraffa e l'assessore alla scuola del comune ci tiene a precisare che è comunque un invito alle scuole, non un'imposizione. Da parte nostra è un invito, poi naturalmente la scuola ha la propria autonomia e è libera di scegliere anche altre modalità. Però ecco, a Prato mi risulta che non ci sia questa perplessità. Vengono le bottigliette o la caraffa? Ma non lo so. Le bottigliette sicuramente, io da mamma sono quasi più tranquilla. Non ho avuto questa imposizione da parte dei maestri di mia figlia, io nel senso mia figlia gli mando l'acqua. Gli la stappo io e gliela porto, non è che gliela riempio, no. Perché mia figlia beve quella gasata, capito? Perciò penso che quella naturale è difficile che lei la beve. È l'acqua di pubblico acqua, è come tale e viene controllata nel momento in cui viene erogata nell'acquedotto. Gli impianti che vanno a portare l'acqua in tutti, sia in casa, a casa, a scuola, sono impianti vecchi, tubazioni vecchie, arrugginite, che può contaminare. Esattamente, questo sì. E l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Prato ci dice, nessuna imposizione per le caraffe, solo un consiglio per l'acqua come bene comune. E se viene sollevata una questione epidemiologica, siamo pronti a qualsiasi analisi. Dobbiamo anche fare, far fare l'analisi e poi controllarle con i genitori, ecco, c'è piena disponibilità da parte dei pubblici acqua. Hanno chiesto dal pediatra anche un'esenzione perché... Guardi, ha proprio preso una persona per queste cose. I bambini si devono anche un pochino adattare, cioè non si può. Secondo me chi ha tutti questi problemi non c'è niente d'altro da pensare. Fortunati loro, io ce ne ho tanti altri che... Gli do la bottiglia, la metto nello zaino. Con la bottiglina sempre? Sempre, sì. Perché l'acqua in bottiglia fa veramente pietà. È peggio. È peggio? Sì, meglio l'acqua della fontana, sinceramente. Ho capito, però, e allora cosa si beve? La si compra tutti. Lei la compra o la beve dalla... Io faccio domande. Ah, ecco, lei fa domande, noi si deve fare la risposta. Ho capito.